Il Consiglio regionale ha pubblicato l'edizione 2012 del volume Guida ai finanziamenti regionali e a cura del Centro Studi e Documentazione per le Autonomie Locali che fa capo alla Direzione Comunicazione Istituzionale. Il testo classifica tutte le varie tipologie di intervento finanziario gestite direttamente dalla Regione, attivabili attraverso la presentazione di una istanza da parte dei potenziali beneficiari. Si tratta quindi delle sovvenzioni a gestione diretta regionale, comprese quelle non finanziate direttamente dal bilancio regionale, ma che prevedono un rilevante coinvolgimento procedurale della Regione. Il volume è scaricabile dal sito in versione PDF ed è consultabile mediante uno specifico motore di ricerca sul sito. L'edizione cartacea della Guida è stata inviata a enti locali, associazioni e organizzazioni di categoria e può essere richiesta all'URP del Consiglio regionale al numero verde 810 10 11.